segnalino vediamo deve essere anche una schifezza eccolo eccolo primo proiettilino della giornata proiettilino della giornata sembra un bel segnale un bel segnale un bel segnale Ops, va via all'on. Grazie a tutti. Luca, vieni qua. Lo vedi? È vero, l'ho visto subito. Con il pilone. C'è anche... oh, c'è il dietro? E' un po' di coltellino lì, sai? Finisci? Se non lo vuoi rovinare, opprivi a tirarlo verso la punta e intero si sfila. No, non è intero, ma cavolo, bello. Bel calibro. Già esploso? Eh beh, sì. E' del 35 questo, no? Non lo so. Sì, sì, è quello gigante. È logiva questa e basta. Ah, può? Sì, sì. Però... È un po' di coltellino. Un po' di coltellino. Sì 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 Sì